One Piece è una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni e sta godendo un momento prezioso riguardo i prodotti collezionabili ad essa dedicati. Bandai non ha perso tempo ed ha creato molti prodotti interessanti, in parte mostrati allo stand da Mashi Nation di Lucca Comics & Games 2012. Iniziamo con due set di Gashapon della linea Chozo K da Mashi. Per la linea Cho-Gokin, la riproduzione della Goin' Merry, la prima barca della turma di Cappello di Paglia. Inoltre Franky, unico personaggio riprodotto in questa versione, con tanto di componenti in metallo. A seguire è la linea Figuar Zero la predominante, mostrando in primo luogo la turma completa dopo il time skip, per poi passare a Luffy tratto dal nuovo film Z, la nuova versione di Zoro con colorazione metallizzata, e l'esclusiva dell'evento Tamashi Nationals 2012, cioè ciò per special versione. Inoltre, svariati personaggi secondari tratti da diversi momenti della dell'avventura. A troneggiare troviamo il diorama dedicato alla versione battle di Ace, la linea con pose dinamiche da combattimento, con tanto di fiamme alle sue spalle, risultando una delle migliori riproduzioni esposte in questa sezione. www.youtube.co.edu Grazie per la visione!